Allora nella giornata di oggi completiamo questo esercizio che avevamo iniziato la settimana scorsa così rinfreschiamo la memoria sui diagrammi dei casi d'uso in vista anche del laboratorio di domani che sarà il primo su questo argomento invece da giovedì continueremo sempre sul macro tema dei casi d'uso ma impareremo a fare la descrizione di dettaglio del singolo caso d'uso mentre finora stiamo lavorando solamente sul diagramma complessivo che li elenca e ne dà le relazioni. Allora a titolo di veloce rinfresco di memoria la rappresentazione completa dei casi d'uso di un sistema rappresenta tutti gli aspetti funzionali che coinvolgono l'interazione con l'utente e si può dare una prima visione che noi abbiamo chiamato di livello summary quindi una visione aggregata complessiva in qualche modo semplificata astratta nel quale si identificano le macro aree funzionali che raggruppano le funzioni che il sistema dovrà erogare e queste macro aree funzionali noi abbiamo identificate con dei casi d'uso ai quali abbiamo agganciato l'etichetta summary proprio per ricordarci che questo non è un singolo caso d'uso specifico un obiettivo specifico ma un'area che all'interno racchiude molti obiettivi specifici ma questo ci permette comunque già di dire di esplicitare quali sono gli utenti che hanno accesso alle vari tipi di aree funzionali e questo ci apre la strada per poi la modellazione per poi procedere alla modellazione più di dettaglio più concreta le vere funzioni l'effettiva funzionalità del sistema che sono i casi d'uso a livello cosiddetto user goal cioè dove sono diventano evidenti espliciti gli obiettivi del singolo utente nell'interazione col sistema ecco la volta scorsa avevamo iniziato a realizzare uno dei diagrammi dei casi d'uso a livello user goal che è relativo alla formazione team a questo livello summary quindi rileggendo il diagramma ciò che ciò che c'è scritto qua è che una delle aree funzionali del sistema è quella della formazione dei team e quest'area funzionale del sistema è riservata a utenti di tipo partecipante questo è ciò che dice questo diagramma nel dettaglio e qui entro nel diagramma delle casi d'uso formazione team o a livello basso lo stesso attore che ovviamente accedeva a livello summary che a questo punto è collegato a vari casi d'uso di livello più dettagliato che corrispondono alle singole casi d'uso ossia ai singoli obiettivi di interazione che l'utente si può dare quindi il partecipante utente di tipo partecipante può decidere di visionare gli iscritti semplicemente come informazione quindi ricordiamo sempre che noi diciamo una frase la possiamo leggere sempre in due modi il partecipante può visionare gli iscritti quindi l'utente può che significa il sistema informativo deve avere la funzionalità per permettere al partecipante di quindi una possibilità offerta all'utente è un obbligo un vincolo una specifica un requisito sul sistema informativo nel caso di casi d'uso è molto più semplice parlare mettendo l'utente come soggetto dicendo le cose che lui può fare sottintendendo ovviamente che noi progetteremo un sistema che lo metta in grado di farle la seconda secondo caso d'uso è la richiesta di unirsi a un team quindi il fatto che il partecipante possa decidere di fare una richiesta a un altro partecipante di unirsi al team e questi due casi d'uso in qualche modo sono correlati nel senso che la volta scorsa avevamo indicato una relazione extend per indicare il fatto che è possibile e noi vogliamo che il sistema informativo lo permetta che un utente che ha iniziato la sua interazione col sistema per visionare gli iscritti a un certo punto ne trovi uno particolarmente interessante in quel momento cambia obiettivo passa dall'obiettivo voglio visionare gli iscritti all'obiettivo voglio richiedere faccio una richiesta di unirmi al team di quella persona quindi in qualche modo la conclusione dell'interazione non è ok ho finito di visualizzare gli iscritti adesso chiudo e vado a casa ma sto visualizzando gli iscritti e concludo la mia interazione facendo una richiesta quindi questa freccia extend indica che questo caso d'uso estende la conclusione del caso d'uso precedente il caso d'uso precedente non si chiude non finisce con la sua fine naturale ma viene esteso da un altro caso d'uso che appunto ne potenzia ne estende ne aumenta l'obiettivo quindi l'obiettivo dell'utente a questo punto diventa richiede di un essere team questa richiede di un essere team non è semplicemente una parte opzionale del primo caso d'uso in quel caso avremmo usato una reazione contraria tipo include cioè mentre ci sono gli iscritti magari posso fare una sottoattività che è quella di richiedere di unirmi al team non è semplicemente un sottocaso più dettagliato un caso particolare una sottocondizione quindi un caso incluso per due motivi il primo motivo è che richiede di un essere team in qualche modo come dicevamo è un obiettivo, una finalità esplicita che ha un valore per l'utente, significa qualcosa ok? e quindi ha un obiettivo di per sé, non è solamente una fase come dire inserisci tu i dati anagrafici che di per sé non è un obiettivo per l'utente, è una fase, è un passaggio necessario quindi questo, quando un'azione, una sequenza di interazioni, cioè non un singolo click di solito ma una sequenza di interazioni hanno un significato per l'utente questo di solito ci porta a dire modelliamolo come un caso d'uso quindi avendo un significato per l'utente l'azione in sé è meglio scorporarla in un caso d'uso separato ma l'altra, quindi questo è il primo motivo che mi fa dire che questo non è un caso d'uso incluso ma è un caso d'uso a sé indipendente l'altro motivo è che io posso immaginare di lanciare la richiesta di unirmi a un team senza necessariamente passare per la visione degli iscritti cioè magari lo conosco già, ci siamo messi d'accordo, ok? iscriviamoci a quell'hackathon, va bene? io e il mio amico, quando ci siamo iscritti entrambi io faccio la richiesta di entrare nel suo team non ho bisogno di andare a fare la ricerca nell'elenco degli iscritti sono già la sua mail e quindi posso, diciamo così, molto più rapidamente andare direttamente a quella funzionalità quindi questo è un po' il ragionamento che abbiamo fatto disegnando questo diagramma quell'altro caso d'uso accetta la richiesta di iscrizione è relativo all'altro lato quando un partecipante richiede di unirsi al team di un secondo partecipante allora questo secondo partecipante dovrà accettare la richiesta quindi a un certo punto questo secondo partecipante si collegherà al sistema per accettare le richieste oppure per non accettarle, per rifiutarle ovviamente lui fa ciò che vuole però ricordiamoci sempre che nello scrivere i casi d'uso noi descriviamo, li intitoliamo sempre con l'obiettivo in senso positivo cioè cosa succede se tutto va bene poi nella descrizione di dettaglio che come vi dicevo cominceremo giovedì a vedere invece analizzeremo tutti i casi che possono capitare compreso il caso in cui la richiesta venga rifiutata però a livello di titolo non diciamo fai o non fai accetta o non accetta, richiedi o non richiedi ma semplicemente il caso fortunato, positivo quello che chiameremo lo scenario di successo quello in cui si raggiunge l'obiettivo adesso qui abbiamo se vogliamo due sfumature che questo sarebbe già completo così sarebbe già bene così però già che ci stiamo ragionando ci aggiungo due sfumature la prima sfumatura è l'attivazione di questo caso d'uso cioè mentre nel caso d'uso visione iscritti è chiaramente un caso d'uso che se viene fatto dall'utente è perché è l'utente a deciderlo adesso voglio vedere chi si è iscritto arrivi lì, clicchi sul link giusto e vedi gli iscritti vai avanti, prossima pagina eccetera eccetera quindi è ovvio che la prima azione viene compiuta dal partecipante in questo caso dall'attore primario che è il partecipante il caso accetto richieste di iscrizione è un po' diverso nel senso che io come partecipante non è che adesso dico vabbè sono le 3-10 e ho voglia di accettare le richieste di iscrizione magari non ne ho magari non ho richieste di iscrizione quindi in qualche modo quella è un'attività che disegnata così farebbe pensare che il partecipante ogni tanto va a vedere magari un po' ansioso e dice adesso voglio che se qualcuno mi ha messo chiesto vado a controllare, vado a accettare e attiva lui quel caso d'uso cioè si imbarca in quella sequenza di interazione che gli permetterebbe in caso di successo di accettare una richiesta di iscrizione non è molto realistico noi in realtà quello che vogliamo indicare qui è che quando io faccio una richiesta di iscrizione a un'altra persona questa persona viene stimolata a rispondere rispondere di sì o di no ma rispondere quindi in questo caso potremmo indicare che l'interazione tra il partecipante e la richiesta di iscrizione questa sequenza di passi di interazione può essere iniziata non dall'utente come avviene normalmente ma dal sistema stesso cioè il sistema mi manderà una notifica mi manderà un messaggio mi manderà un qualcosa per dire ehi tu adesso per favore io ho fatto il primo passo ti dico che qualcuno ha fatto una richiesta tu fai il secondo in cui mi dici sì o no quindi la differenza è chi fa il primo passo per indicare che il primo passo lo fa il sistema possiamo usare una notazione leggermente diversa che non è una linea semplice di associazione ma una associazione orientata una freccia che va dal sistema verso l'utente quindi indica anche qua uno scenario di interazione in cui l'utente e il sistema interagiscono ma il primo passo lo fa il sistema non posso dire obbligando l'utente a fare il secondo perché non si può mai obbligare l'utente ma stimolandolo sì o richiedendo l'utente di fare il secondo mentre in altri casi no ovviamente è l'utente che fa il primo passo allora potrei mettere una freccia che va da utente verso il caso d'uso ma essendo questo il caso normale lo lasciamo sottinteso quindi quando la associazione non ha una freccia indichiamo sottintendiamo che è l'utente ad iniziare l'interazione ok quindi questa è la prima sfumatura per i casi d'uso nei quali la prima azione viene compiuta dal sistema lo indichiamo con una freccia in questo senso ricordiamocelo agganciamo una parola chiave a questo trigger cioè il trigger del caso d'uso cioè l'evento che lo fa scatenare esiste esiste un trigger cioè un evento che fa sì che questo caso d'uso debba iniziare evento indipendente dalla volontà dell'utente l'utente può esserci sempre in questo caso l'evento scatenante è il fatto che un altro utente un altro partecipante abbia chiesto di unirsi a me al mio gruppo al mio team quindi la volta giovedì vedremo dove descrivere questo ogni volta che c'è un caso d'uso iniziato dal sistema ci chiederemo qual è l'evento che fa sì che questo caso d'uso parta non è che il sistema se lo inventa così quando succede qualcosa all'interno del sistema allora questa interazione viene avviata la seconda sfumatura è sul partecipante sull'attore partecipante allora è un po' strano questo disegno a prima vista perché dice ma scusa c'è un partecipante che richiede di unirsi e lui stesso lo stesso partecipante accetta la richiesta ma ovviamente non è da leggersi così vuol dire che un utente di tipo partecipante fa la richiesta e un altro utente di tipo partecipante può accettare la risposta se volessimo facciamoci una domanda sarebbe meglio o più preciso definire un altro tipo di attore che possiamo chiamare partecipante invitato richiesto richiesto non è che lo invito ma gli chiedo di unirmi che sia un sottocaso di partecipante e quindi diciamo che l'accettare la richiesta di iscrizione la puoi fare solo se sei un partecipante a cui è arrivata almeno una richiesta cioè questo caso d'uso non è accessibile a tutti i partecipanti ma solo a quelli alla sottocategoria di partecipanti e quindi ho fatto una sottoclasse che poi dovrò spiegare cos'è questa sottoclasse ma che è la sottoclasse dei partecipanti che hanno ricevuto che hanno almeno una richiesta in sospeso diciamo quindi tu come utente utente del sito sei sempre tu sei sempre la stessa persona lo stesso username ma in momenti diversi puoi avere accesso a ruoli diversi sempre all'interno del suo sistema nel momento in cui qualcun altro ti fa una richiesta di invito tu automaticamente acquisisci oltre che il ruolo di partecipante acquisisci anche il ruolo di partecipante richiesto e quindi puoi avere accesso alle funzionalità che il sistema offre ai partecipanti richiesti quindi non c'è il problema di chiedermi ma io come utente sono qui o sono qui la mia appartenenza a un ruolo è una cosa dinamica dipende dalle condizioni del momento dipende dai privilegi che ho dalle azioni che ho fatto quindi quando so se voi su una qualunque piattaforma social guadagnate tot punti perché avete fatto delle recensioni eccetera allora diventate acquisite dei diritti in più delle operazioni in più potete fare i commenti votare sulle sulle informazioni degli altri solo se avete un certo punteggio ecco lì c'è una serie di ruoli via via di privilegi crescenti a cui si diciamo accede dinamicamente non è una cosa statica ok quindi non c'è da preoccuparsi su questa cosa qua questo è un livello di dettaglio maggiore rispetto a prima completamente compatibile con quello di prima perché un partecipante richiesto è un partecipante quindi ciò che sto dicendo qua non è affatto in contrasto con il disegno che c'era prima è una specifica ulteriore ok è un dettaglio in più che ci può stare se vogliamo precisarlo in questo caso l'esempio è semplicissimo quindi stiamo spaccando effettivamente il capello però lo usiamo come pretesto per fare il ragionamento più ampio quindi mentre noi avevamo a livello summary dei ruoli che erano abbastanza statici fissi cioè se sei un partecipante non sei anche un giudice se non sarebbe un leggero conflitto di interesse almeno nello stesso hackathon però questa la così dinamicità di questi ruoli possono anche essere più dinamici che dipendono da che cosa sta succedendo all'interno del sistema come vi ho detto andava già bene prima qui abbiamo speso un pochino di più di tempo per modellare in un modo un pochino più dettagliato qualcuno potrebbe chiedersi ma aspetta un attimo tu hai messo un attore partecipante richiesto a livello user goal ma a livello summary non c'era questo attore sì che c'è perché partecipante richiesto è un partecipante e qui ho detto che formazione team è accessibile ai partecipanti qui ci sta dentro che poi alcuni user goal siano accessibili a tutti i partecipanti e invece un sotto insieme di user goal sia accessibile solamente alla sottocategoria di partecipanti è un dettaglio appunto un dettaglio a livello utente che a livello summary non è così importante riportarlo quindi io a livello user goal non potrò ovviamente aggiungere attori cioè io qua non ci posso mettere il giudice tanto per capirci a fare qualcosa perché qui era detto chiaramente che il partecipante e il giudice sono due cose diverse e alla formazione team lavorano solo i partecipanti quindi questo non ci può stare però nulla mi vieta di andare a specializzare meglio un tipo di attore che già c'è che già fa parte di questo giudice di user goal ok spostiamoci da questo magari a qualcun altro così sempre come pretesto possiamo vedere altri tipi di modellazione ad esempio già la settimana scorsa abbiamo accennato a questo caso d'uso gestione iscrizioni solo perché era l'unico che aveva due attori diversi a livello summary e quindi vediamo che cosa succede a livello user goal in realtà questo è un caso d'uso abbastanza fatemi dire noioso cioè non ha nulla di speciale allora facciamo un nuovo diagramma di casi d'uso che si chiamerà gestione iscrizioni poi no io no ecco non mi spiego mai perché qui mi permette di scrivere le cose e poi non me le mostri ma è un problema di aste che non sono mai riuscito a capire però il nome lo mettiamo qua allora dicevamo il caso d'uso gestione iscrizioni è un caso duro che a livello user goal dovrà assumere le attività di giudice e partecipante quindi vado a prendere l'attore giudice l'attore partecipante e mi chiedo che cosa devono fare allora nella macro area gestiono iscrizioni allora che differenza c'è tra l'iscrizione di un giudice alla piattaforma o all'hackathon più all'hackathon direi e l'iscrizione di un partecipante all'hackathon ma direi che la differenza principale è che il giudice ha due modi diversi di iscriversi uno è comune all'utente al partecipante cioè decidono di iscriversi punto vado sulla piattaforma mi iscrivo a quel determinato account l'altro per il giudice è su invito dell'organizzatore ricordate che l'organizzatore cosa fa? seleziona i giudici dalla piattaforma quindi i giudici che si sono preventivamente iscritti oppure invita un giudice che prima non era in piattaforma e quindi viene invitato ad iscriversi e questo fa parte dell'attività dell'organizzatore nella gestione hackathon quindi io ci vedo qua due casi d'uso diversi uno in cui a livello di gergol l'utente sia esso giudice sia esso partecipante decidono di iscriversi di propria volontà e uno in cui invece il giudice si iscrive su invito qui ci vedrai due casi d'uso uno iscrive dunque vediamo come scriverli vedete che gli altri casi i casi d'uso li abbiamo sempre messi come completamento della frase che ha come soggetto l'attore quindi partecipante visiona gli iscritti partecipante richiede di unirsi al team quindi qua diciamo che il partecipante si iscrive all'hackathon e questo lo può fare sia il partecipante in qualità di partecipante se riesco a fare la freccia sia il giudice scriverà ovviamente come giudice oppure perché è stato selezionato e quindi si può iscrivere oppure il giudice è stato selezionato essendo già iscritto alla piattaforma oppure il giudice viene invitato e quindi accetta l'invito dell'organizzatore ad iscriversi questo caso d'uso è ovviamente iniziato dal sistema cioè quel signore lì se ne stava tranquillo con la sua a sorseggiare il tè delle cinque quando gli arriva una mail un messaggio dal sistema che dice l'organizzatore Pinco Pallino che tu conosci benissimo il tuo grande amico vorrebbe che tu fossi giudice in quell'evento che sta organizzando e allora a questo punto io proseguo l'interazione dico di sì oppure di no nel caso di sì ovviamente rimango poi iscritto risulto poi iscritto esattamente come chi si è scritto volontariamente già alla piattaforma quindi su questo non c'è molto di più da dire questa notazione in cui giudice e partecipante insistono entrambi sono associati entrambi allo stesso caso d'uso non vuol dire che quel caso d'uso richiede la presenza contemporanea dei due attori cioè non è un caso d'uso con due attori ma è un caso d'uso che può essere separatamente e indipendentemente attivato dal primo attore o attivato dal secondo attore ciascuno per i fatti propri come dicevamo come dicevamo sono rarissimi i casi in cui un caso d'uso richiede la collaborazione contemporanea di più di un attore e quindi oltre all'attore primario ci sono anche gli attori di supporto allora in quel caso nell'associazione indichiamo come stereotipo la parolina support per indicare che un determinato attore non è un attore indipendente che fa il caso d'uso per conto proprio ma è di supporto all'attore primario in questo caso non c'è quindi l'interpretazione normale quando hai più attori che vanno sullo stesso caso d'uso è che questi attori indipendentemente separatamente l'uno dall'altro possono entrambi fare la stessa cosa quella è un'azione che il sistema informativo deve offrire agli utenti di un tipo 1 e del tipo 2 dei utenti che incadono sia il ruolo 1 che il ruolo 2 ok altre parti di casi d'uso cosa abbiamo allora abbiamo visto formazione team abbiamo visto gestione iscrizioni gestione hackathon è di nuovo un pochino forse articolato quindi potremo partire da questo fatto questa volta dall'organizzatore così vediamo un po' ciò che fa ciascuno quindi potremmo avere un altro diagramma di casi d'uso che si chiama gestione hackathon questa volta organizzato dall'organizzatore cioè nel quale i casi d'uso a livello di user goal sono accessibili all'organizzatore allora qua dobbiamo un po' ripercorrere almeno mentalmente il testo dell'esercizio in cui si diceva che l'organizzatore tra le cose che può fare è creare un nuovo hackathon l'organizzatore crea un hackathon nel momento in cui dico crea hackathon mi sto portando dietro tutte le informazioni che costituiscono un hackathon che descrivono un hackathon quindi ricordiamoci sempre che dietro a questa che sono le funzionalità del sistema abbiamo il nostro caro diagramma delle classi che è qua in cui c'è scritto che un hackathon è composto è descritto attraverso un titolo un luogo una data di inizio una data di fine la dimensione degli iscritti numero massimo di team inizialmente queste sono le informazioni minime per poter parlare di hackathon non sto qua a ripeterlo ovviamente qui di nuovo ci definiamo il nostro glossario che in buona parte è appoggiato sul modello concettuale in cui quando diciamo hackathon sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando sappiamo tutti le informazioni che che servono per descrivere questo hackathon adesso è un caso d'uso unico noi non sto a separare le diverse fasi cioè io non 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 farei un caso d'uso definisci il titolo e la data dell'hackathon e un altro caso d'uso definisci la dimensione dei team dell'hackathon e così via queste sono tutte azioni che l'utente dovrà fare che quindi il sistema informativo sicuramente dovrà supportare ma sono azioni che prese da sole non hanno quel senso compiuto per l'utente organizzatore cioè quando ho deciso il titolo ho definito l'hackathon no sono a metà non ho raggiunto un obiettivo che senso ha permettermi di decidere il titolo e non la data e non la dimensione dei team e farlo in momenti diversi in giorni diversi non ci vedo un valore aggiunto in questo il fatto che l'hackathon è definito per metà in cui c'è solamente il titolo e la data e invece non ci sono altre informazioni non ci posso far nulla non posso prendere iscrizioni non posso invitare giudici quindi non ha senso il caso e questo per dirvi che il caso d'uso non è ogni singola cosa che l'utente può fare singola è un insieme di interazioni insieme di cose insieme di informazioni di interazioni più in generale che prese insieme solo quando arriva al fondo hanno un senso compiuto quindi il singolo caso d'uso non è la singola videata il singolo bottone il singolo form è una sequenza di azioni che poi dettaglieremo quando parleremo appunto della descrizione del dettaglio del caso d'uso quindi qua cerchiamo di mantenerci ancora sulle azioni sto ripetendo un po' troppe volte questa frase ma tanto così si entra in testa di senso compiuto non parziale ok crea hackathon dopo di che l'ho creato ho definito anche ovviamente la sua data all'inizio e la data di fine l'altra cosa che può fare l'organizzatore è selezionare i giudici quindi l'organizzatore per selezionare i giudici può o invitare un giudice che esiste cioè che è già registrato nella piattaforma oppure invitare un giudice che non è iscritto alla piattaforma queste sono due casi di uso diversi distinti sia diciamo così dal punto di vista pratico ovviamente le operazioni le informazioni che devi fornire sono diverse nei due casi nel primo caso la piattaforma ha già tutti i dati di quel giudice ti basta solamente schiacciare sul bottone invita nell'altro caso invece sei tu che devi fornire nome, cognome e indirizzo di mail in modo che poi il sistema possa registrare l'informazione e mandare l'invito quindi dal punto di vista tecnico e operativo sono due funzionalità diverse ricordiamoci che qui stiamo facendo i requisiti funzionali ma anche fatemi dire psicologicamente per l'utente sono due cose diverse uno secondo le persone sono già registrate sono già volontari eccetera li seleziono e altro è adesso voglio invitare qualcuno di nuovo quindi è un obiettivo che percepisco diverso quindi io farei due casi duri separati uno è più facile cioè più facile da scrivere perché significa invita giudice nuovo non so come chiamarlo in una parola sola non ancora iscritto alla piattaforma se vi piace nuovo come abbreviazione di non iscritto alla piattaforma lo lasciamo così e l'altro è invita un giudice già iscritto alla piattaforma vabbè dai lo scrivo tutto allora questo è chiaramente un'azione che fa l'organizzatore sapendo lui i dati le informazioni questa anche la può fare conoscendo già sa già che c'è qualcuno iscritto alla piattaforma quindi va e lo magari infirisce il suo nome la sua mail e lo trova subito ovviamente per poter permettere all'organizzatore di invitare gli iscritti o eventualmente capire che una persona che lui aveva in mente non è ancora iscritta quindi la deve invitare dovrò fornire all'organizzatore una funzionalità di ricerca e visualizzazione quindi una sorta di sfoglia gli iscritti alla piattaforma ricerca visualizza elenca qui i termini sono importanti cioè se io dico sfoglia gli iscritti mi immagino una funzionalità in cui vedo gli iscritti per pagina eventi per pagina vado avanti li posso sfogliare visionare magari vedere alcuni dati sugli iscritti a quanti hackathon hanno partecipato se hanno già fatto il giudice eccetera se dico invece ricerca gli iscritti ricerca tra gli iscritti io mi immagino che come prima azione ci sia l'utente che inserisce magari il cognome e si aspetta di ricevere non so un risultato magari solo due tre al massimo ai suoi criteri di ricerca sono due cose diverse chiaramente visualizzare un elenco sfogliare un elenco è il sistema che mi fornisce l'accesso a tutti i dati e poi sono io che mi li vado a spulciare invece è una ricerca è qualcosa in cui io come prima cosa il sistema all'inizio non mi dà nulla sono io che gli do un criterio e lui mi dà i risultati di questa ricerca sono due modalità diverse qui dobbiamo decidere cosa fare perché poi chi implementa il suo sistema deve sapere se fare un motorino di ricerca oppure un motore di visualizzazione a scrolling a pagine eccetera sono due cose diverse quindi anche solo la sfumatura del verbo che usiamo è già una scelta progettuale poi nulla esclude che ci possono essere entrambe le funzionalità ma sono diverse un conto se voi andate a scrivere qualcosa in una casellina ricerca un conto invece se andate a sfogliare pagina 2 pagina 3 pagina 4 su un elenco di risultati fate cose diverse che sono anche messe in punti diversi della pagina la ricerca di solito sta in alto la paginazione sta in basso molto praticamente quindi va qui scegliamone una possiamo dire l'organizzatore sfoglia gli iscritti alla piattaforma e di nuovo come prima sfogliare gli iscritti alla piattaforma può essere un'azione indipendente senti voglio farmi un'idea di che c'è scritto diamo un'occhiata ok ho trovato dei nomi mi sono fatto un'idea ci ripenso domani domani poi penso a invitare i giudici nel frattempo penso ai nomi che ho visto oppure e quindi in caso d'uso a se stante oppure mentre sto vedendo quei nomi beh questo sarebbe proprio interessante invitiamolo e quindi funziona di nuovo il meccanismo di estensione che abbiamo visto prima per la formazione dei team quindi nella sfogliare gli iscritti alla piattaforma può estendersi in invitare un giudice già iscritto alla piattaforma questo estende questo invita giudice estende sfoglia gli iscritti cioè il caso d'uso di sfogliare gli iscritti può finire lì li ho visti e basta oppure può venire esteso facendo dei passaggi ulteriori che sono l'invitare il giudice chiaramente già iscritto quello non iscritto non è che posso invitare una persona non iscritta dall'elenco degli iscritti non c'è questa persona quindi devo attivare una funzione separata poi ci sono altre cose che fa l'organizzatore io ne ricordo una che è apre le iscrizioni ma ciò che ricordo conta poco perché noi in realtà ciò che fa l'organizzatore ce l'abbiamo già scritto adesso stiamo andando finora a memoria ma io abbiamo fatto dei bellissimi diagrammi delle attività in cui c'era scritto nelle varie fasi di sviluppo che cosa qual è la responsabilità di ciascuno degli attori quindi l'organizzatore creava l'hackathon selezionava i giudici e noi i casi d'uso per fare queste cose ce li abbiamo passiamo a trovarli dov'è gestione hackathon qua crea hackathon e questi tre casi d'uso sono i casi d'uso per selezionare i giudici dell'hackathon avevamo qui avevamo anche fatto una attività complessa che descriveva come veniva no vi ricordate l'abbiamo fatto un mese e mezzo fa o posso selezionare un giudice tra gli iscritti e la piattaforma come beh usando usando lo sfoglio agli iscritti e invito a giudici già iscritti questi sono gli strumenti le funzioni del sistema che permettono all'amministratore all'organizzatore di compiere questa azione oppure c'è tutta la parte invece di invito di un esterno allora abbiamo l'organizzatore inserisce un indirizzo di mail e fa parte invece del caso d'uso invito a giudice non iscritto e il processo va avanti con un'azione che non coinvolge nessun utente e poi con l'azione in cui il giudice risponde e si registra risponde e si registra ce l'avevamo nel caso d'uso quando ne abbiamo tanti si perdono nel caso d'uso il giudice accetta l'invito e si registra quindi le cose sono le stesse o giustamente viste in un'ottica diversa nel diagramma dell'attività c'è la sequenza logica con cui devono avvenire le cose e ciò che mi interessa è la concatenazione logica degli eventi il percorso sensato del token poi ad ogni passo questo token per andare avanti dicevamo le azioni che compie il sistema informativo se le compie da solo ma tutte le altre azioni richiedono quando parlavano dell'attivity diagram dicevamo richiedono la collaborazione di un utente un qualche utente che faccia qualche cosa e qui stiamo proprio andando a dettagliare quali sono le funzioni che gli utenti possono fare col sistema per compiere quell'azione nei diagrammi di casi d'uso non si vede più la sequenza logica delle operazioni sono diagrammi disordinati cioè non sono organizzati temporalmente o sequenzialmente sono più un catalogo di possibilità quando quando ciascuna di queste funzionalità è utile o è possibile lo decide l'attivity diagram quali siano le possibilità e a quale utente sono permesse lo decide lo use case diagram ok quindi eravamo tornati all'attivity diagram per controllare di aver catturato tutto ciò che fa l'organizzatore una cosa invece ce l'avranno dimenticata dimenticata no ce l'avranno tutti ben presente ma non l'abbiamo ancora scritta e apre le iscrizioni io lo metto qua in alto perché c'è spazio perché tanto non importa non c'è un ordine specifico in cui questi casi d'uso debbono comparire mentre invece la chiusura delle iscrizioni avveniva in modo automatico era il sistema che chiudeva le iscrizioni due giorni prima non era un'azione dell'organizzatore giusto? io qua già comincio a intravedere la struttura del sistema informativo visto dall'utente cioè ciascuna di queste palle qui sono due o tre o quattro videate che qualcuno dovrà implementare dovrà programmare dovrà scrivere quindi cominciano cominciano a articolarsi la struttura del sistema informativo mentre prima di livello di processo dico beh faccio questo faccio quest'altro qui diciamo questa è la descrizione più estensiva c'è proprio l'elenco di tutte le singole cose che il sistema deve fare e qui ricordiamo quello che avevamo detto a proposito dei requisiti funzionali i requisiti funzionali sono in buona parte separati indipendenti l'uno dall'altro questa funzionalità può esserci può non esserci è implementata o non è implementata l'ho testata funziona non l'ho ancora testata oppure l'ho testata ma ha dei problemi indipendentemente dalle altre quindi questo è ciò che permette a un sistema di crescere in funzionalità perché le varie funzionalità sono che sfruttino ovviamente lo stesso modello concettuale sono in buona parte indipendenti mentre sui requisiti non funzionali non potremmo fare un ragionamento così parcializzato così separato ok allora il nostro caro organizzatore deve fare altro andiamo un po' a vedere apro le iscrizioni e qui non c'è più nulla nella sua swim lane quindi non deve fare altro poi cosa ci rimane beh il sistema informativo fa cose ma non richiede interazione con l'utente quindi a livello dei diagrammi di cosiduro non compare e cominciano a ci mancano ancora le attività che sono relative allo svolgimento dell'hackathon quindi gestione hackathon l'abbiamo fatto gestione istituzione l'abbiamo fatto formazione team l'abbiamo fatto ci manca il caricamento dei progetti da parte dei team leader o dei team e la valutazione da parte dei giudici in realtà poiché ci sono appena stato sul diagramma di attività c'è anche un'azione in cui i giudici pubblichano il problema che mi ero dimenticato dimenticato forse no ma ho il dubbio di dove metterla qua dentro i giudici pubblicano il problema dove dovrebbe stare logicamente come area funzionale in valutazione o in gestione iscrizioni non mi piace l'uno e l'altro pubblicano il problema forse sarebbe più in gestione hackathon forse come attinenza tematica però gestione hackathon al momento non è i casi d'uso di gestione hackathon non sono associati al giudice vabbè scegliamone una o cambiamo il nome di questo summary anziché chiamarlo valutazioni troviamo una parola che ci piace che dica definisci e valuta il progetto gestione del progetto della challenge gestione della challenge potrebbe andare bene della sfida che i team devono devono risolvere e quindi nell'ambito di gestione ci sta sia la definizione che la valutazione questa è una soluzione che forse mi piace l'altra soluzione sarebbe quella di non fare tanto i filosofi e collegare giudici a gestione hackathon dicendo una delle parti della gestione dell'hackathon è la definizione della pubblicazione del problema questo aspetta il giudice punto e allora dentro gestione hackathon aggiungeremo ancora un altro attore giudice con un altro caso d'uso definisci il problema che si può fare è un po' meno bello perché sto mettendo un caso d'uso da un attore dentro un diagramma che è completamente staccato da quelli quindi c'è una minor coesione funzionale facendo così quindi mi piace meno perché è meno rappresentativo di macro blocchi funzionali quindi direi che spero che mi piace di più è ampliare il concetto di questo summary quindi diciamo che il giudice gestisce gestione problema challenge diciamo perché problema è un po' generico come parola però il testo diceva problema vero? è bello il fatto che il nostro modello concettuale non abbiamo salvato da nessuna parte il problema da risolvere e ce ne accorgiamo tre mesi dopo cioè quando il giudice qui è stato scelto per un hackathon l'organizzatore bla 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 ma non c'è scritto in nessuna parte dov'è il file il pdf che descrive qual è il problema da risolvere ci si è dimenticato sono tornato qua per cercare di ricordarmi come l'avevamo chiamato e mi sono accorto che non l'avevamo chiamato allora il problema da risolvere è che cos'è? un testo che sarà un attributo di hackathon no? non è nella relazione tra giudice e hackathon qualcuno potrebbe avere la malsana idea di pensare ah ma metto un association class tra giudice e hackathon perché il testo lo decide il giudice idea molto malsana uno perché in un diagramma concettuale chi fa che cosa non ce ne frega niente ci interessa a che cosa sono associate alle informazioni e mettere l'association class qua dire farebbe capire che per un determinato hackathon ogni giudice definisce un problema diverso invece il problema da risolvere è associato all'hackathon che poi siano i giudici a deciderlo o che venga calato dall'alto attraverso un sogno di un angelo è indifferente per quanto concerne a che cosa è relativo a che cosa ha collegato il problema ok? quindi non confondiamo giudice come colui che fa le cose con giudice come dati informazioni che ho a disposizione che sono correlate in qualche modo all'hackathon quindi per far breve io aggiungo un campo qui a questo punto non avevamo nessun nome abbiamo capito che la parola problema non ci piace e chiamiamo la challenge che è un testo fatemelo chiamare text e non solo string per ricordarmi che sarà un testo lungo e quindi magari per coerenza torno qua e dico pubblicano non il problema la challenge scusate il misto italiano-inglese ma a volte torna comodo per potersi districare e allora finalmente posso tornare al mio summary e dire che qui ho la gestione delle challenge della challenge associata all'hackathon e allora posso chiedermi quali sono le azioni di dettaglio quindi gli user goal i casi d'uso a livello user goal del giudice nella gestione della challenge e quindi facciamo salviamo prima e facciamo un altro diagramma dei casi d'uso che si chiama gestione challenge in cui l'attore ci sarà una serie di casi d'uso in cui l'attore principale è sempre il giudice allora quali sono i casi d'uso uno è quello per cui abbiamo fatto tutto questo casino abbiamo perso l'ultima mezz'ora pubblica il testo della challenge poi durante lo svolgimento dell'hackathon i giudici facevano due cose durante e una alla fine se non ricordo male ciò che faceva il giudice durante l'hackathon era divisionare degli stati di avanzamento di lavoro che i vari gruppi avevano pubblicato e eventualmente fornire dei commenti e poi alla fine dell'hackathon il giudice valutava il lavoro finito allora sicuramente valutare un stato di avanzamento intermedio valutare un lavoro finale sono due cose diverse perché nel primo caso l'obiettivo è poi eventualmente di dare un commento un suggerimento e nell'altro caso invece devo dare un voto e sulla base di quel voto si farà la graduatoria finale verranno segnati i premi eccetera e quindi io ci vedo tre casi d'uso che sono visualizza lo stato di avanzamento lavori di un team poi potrei avere il commenta lo stato di avanzamento lavori di un team e infine valuta il risultato finale di un team tutte queste sono azioni fatte dal giudice e tra visualizza e commenta io ci vedo una facile relazione di estensione posso visualizzare e basta oppure mentre la visualizzo appena l'ho visualizzata mi accorgo che è piena di scemenze e quindi mi viene da scrivere un commento e quindi il commento allo stato di avanzamento del lavoro di un team può essere un'azione indipendente che il giudice può fare oppure un'estensione abbastanza naturale del fatto di aver appena letto lo stato di avanzamento lavori li dobbiamo separare perché il commento è un'azione opzionale quindi non fa parte del visualizza è un'altra cosa devo dire che che trovo molto improbabile che venga usata questa associazione il giudice commenta e non visualizza mentre visualizzo decido di commentare tecnicamente è possibile ma praticamente il percorso del giudice sarà sempre questo vado visualizzo e poi per estensione commento perché è molto difficile commentare qualcosa senza averlo visualizzato se volessimo forzare questo potremmo addirittura togliere questa associazione diretta sarebbe un caso d'uso che da solo non è attivabile è solo attivabile nel contesto di un caso d'uso precedente però di nuovo qua siamo nel dominio delle finezze no? qui ho ripetuto più volte di un team di un team di un team da ricordarmi che ciascuna volta in cui attivo quel caso d'uso do un voto a un team quindi se ci sono 20 team io lì dentro ci devo entrare 20 volte valutiamo il team 1 valutiamo il team 2 valutiamo il team 3 sono tutte azioni diverse che si svolgeranno tutte nello stesso modo ovviamente ma darò dei voti diversi e avrò dei commenti diversi avrei anche potuto scrivere a volte il trattato finale di tutti i team pensando a un caso d'uso a questo punto più complicato in cui lì all'interno sono obbligato a dare i voti a tutti dipende un po' dal livello di dettaglio a cui vogliamo definire i vari casi d'uso cosa ci manca a questo punto? gestione e caton l'abbiamo fatto gestione challenge l'abbiamo fatto iscrizioni fornè caricamento progetto vabbè questo è facile l'unica cosa che fanno i team leader o i partecipanti durante l'hackathon dall'inizio alla fine dell'hackathon una volta che è iniziato loro lavorano e vabbè il fatto che loro lavorino non viene visto dal sistema informativo faranno cose se l'hackathon è la costruzione del castello di Lego più bello loro lavorano con i Lego e poi intanto faranno una foto del punto in cui sono arrivati del progetto che avevano e la caricano sul sistema e quando avranno finito caricheranno il progetto finito l'azione è una sola caricamento progetto quindi un altro diagramma dei casi d'uso a cui partecipa l'attore team leader e farà un'azione di carica aggiornamento stato di avanzamento lavoro del suo progetto poi possiamo chiederci se mantenere separato la versione del caricamento della versione finale del progetto può darsi che le informazioni che devi fornire per la versione finale siano più articolate più dettagliate rispetto all'avanzamento lavori che magari è qualcosa di più informale quindi in questa fase io le prevederei distinte su questo nel modello concettuale non abbiamo molti dettagli perché non sapendo esattamente in che cosa consiste il progetto caricato non sappiamo cosa viene salvato stiamo immaginando un testo una descrizione qualcosa al momento non riusciamo ad entrare molto più nel dettaglio c'è ancora un'azione che si fa che è quella di che è quella di visualizzare ciò che dice il giudice se io carico il giudice lo può leggere se lo legge lo può commentare e magari questi commenti io me li vado a rivedere quindi quindi oltre che caricamento dello stato avanzamento posso anche andare a visionare i commenti dei giudici se ci sono ovviamente volendo potrei anche pensare a un sistema e qua ci metto la freccia che quando c'è un nuovo commento mi avvisa qui ho messo due frecce di associazione in cui una dice il team leader va e visiona i commenti dei giudici l'altra freccia indica anche il fatto che magari quando c'è un nuovo commento è il sistema informativo stesso che mi invita ad andare quindi ho un trigger che mi lancia e fa lui il primo passo dicendo c'è un nuovo commento clicca qua per vederlo è lo stesso caso d'uso che inizia in modi diversi può iniziare da ambo i lati qui ho scritto visiona commenti dei giudici non ho scritto visiona commento di un giudice o di ciascun giudice o di ciascun giudice mentre ricordate che dall'altra parte avevo scritto che il giudice fa il commento a un team invece qua vi sono i commenti di tutti i giudici perché mi pare sensato che quando io ho fatto il stato di avanzamento lavori e hanno commentato in tre giudici sul mio stato di avanzamento lavori io vedo i commenti tutti insieme complessivamente non debba entrare tre volte adesso vedo cosa ha detto il giudice 1 o vedo cosa ha detto il 2 o vedo cosa ha detto il 3 vedo complessivamente tutti i commenti che sono pervenuti su quell'elemento quindi attivo il caso d'uso una volta sola per avere i commenti di tutti i giudici qui vedete che ci stiamo un po' giocando sul significato dei verbi e sul singolare plurale per dare un po' un'interpretazione a quello che è il sistema che abbiamo in mente cambiando un po' le paroline cambia il tipo di sistema che poi vorremmo implementare quindi su questo purtroppo come sempre come abbiamo già detto sempre dall'inizio del corso molto importante la precisione e la coerenza dei termini come abbiamo visto prima ma non l'ho fatto opposta non era sceneggiata prima questa cosa la ricerca della coerenza di un termine cioè come ho chiamato la challenge mi ha fatto scoprire che avevo un buco grosso così nella modellazione questi modelli vanno avanti di pari passo l'abbiamo detto la prima settimana non ci credevate ma è impossibile fare giusto il modello concettuale da solo perché scopri facendo ciò che ti serve quindi questi vari modelli noi li stiamo imparando in un certo ordine ma in realtà in una fase di progettazione vera e propria vanno avanti un po' tutti di pari passo continuando ad andare avanti indietro tra l'uno e l'altro ok ciò che vi verrà chiesto domani nell'esercizio di laboratorio è ovviamente di fronte a un esercizietto che è uno scenario che è un pochino più semplice di questo ovviamente di costruire diagramma di casi d'uso a livello summary e a livello gergol e di fornire per ciascun caso d'uso a livello user goal una breve descrizione quella che nelle slide è chiamata il brief descrizione breve che riassume in 3-4 righe massimo 5-6 che cosa che cosa avviene in quella interazione ok allora io non sto a dire all'organizzatore perché fa le cose cosa avviene prima cosa avviene dopo quali sono le condizioni no mi concentro sul caso d'uso cioè apre le iscrizioni non sono stati uno casualmente facilissimo la descrizione brief è l'attore principale organizzatore l'azione che compie è informa il sistema informativo che le iscrizioni sono aperte punto l'unico scambio in questo caso lo scambio di informazioni è un bit solo apri punto il sistema informativo sa già tutto invita giudici e non iscritto alla piattaforma magari è un'azione la cui descrizione breve può essere una frase del tipo l'organizzatore inserisce i dati nome, cognome indirizzo di mail di un nuovo giudice che deve essere invitato all'hackathon a giudicare l'hackathon punto mi fermo lì non dico se poi lui accetterà o non accetterà quello fa parte di un altro caso d'uso la descrizione breve mi deve riassumere cosa deve fare l'organizzatore per arrivare al proprio obiettivo il proprio obiettivo in questo caso è far partire l'invito per far partire l'invito lui cosa deve fare? inserire quei dati quindi far capire veramente in poche righe il succo dell'interazione quali sono le cose che devo fare per arrivare a quel risultato quindi questo è il tipo di descrizione che nel secondo punto dell'esercizio di domani vi verrà chiesta quindi provate a farlo vi viene chiesto il diagramma del caso d'uso completo e poi di fornire la descrizione solamente di tre più importanti perché altrimenti ci perdiamo troppo tempo però provate a farlo poi invece da dove di impareremo una descrizione più dettagliata che non sia solamente con le tre righe breve andremo a considerare tutti gli aspetti allora vi saluto grazie